Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook. All'interno di questo video vi voglio parlare di una domanda che mi è stata fatta in merito allo stretching e che sono abbastanza sicuro di non aver mai affrontato, ovvero a fronte della presenza di una differenza destra-sinistra di escursione di movimento quindi mi accorgo che per esempio una spalla va e una spalla non va tipico di chi ha fatto per esempio in gioventù tanti lavori che sono principalmente monolaterali mi viene in mente il baseball, mi viene in mente il golf, mi viene in mente magari la pallavolo dove principalmente si schiaccia con un braccio e via dicendo. Quindi si tratta di occasioni e di situazioni particolari che magari in altri sport non avvengono e che quindi possono riguardare solamente una restretta parte della popolazione. Però io magari ho come obiettivo di andare a fare una verticale, mi serve un'escursione di movimento e ho un braccio che arriva qua e l'altro braccio che arriva qua, cosa faccio? E qui salta fuori la domanda che mi è stata posta, ovvero se tu dovessi dare un consiglio in merito a come organizzare la seduta di stretching preferiresti fare lavori che sono monolaterali o lavori che sono bilaterali quindi che coinvolgono la parte destra e la parte sinistra? Ora, dal mio punto di vista bisogna fare uno step in più perché alla fine dopo dieci anni a lavorare nel mondo della mobilità ricercando, ripeto, rangi di movimento che possono essere considerati un po' più estremi per la maggior parte della popolazione perché se uno vuole fare una verticale messicana per far riuscire a fare punta a terra o se uno vuole imparare a controllare bene la verticale non di cosa per fare il ponte però arrivarci vicino potrebbe non essere una brutta cosa è logico anche pensare che dove io ho range di movimento estremo devo cercare di recuperarlo il fatto di lavorare sui range di movimenti estremi vi impone che se voi non ci arrivate dovete lavorarci perché io ho capito che il ponte si può raggiungere anche potenzialmente rinforzando tutti i paravertebrali quindi estensione del tratto toracico estensione del tratto toracolombare estensione del tratto lombare ed estensione dell'anca e flessione scapolo-omerale quindi paravertebrali per la parte della colonna e dopo trapezzi per la parte della scapolo-omerale però di fatto se fate così non ce la fate quindi vi garantisco che imparare un ponte facendo così è impossibile oppure imparare a fare una verticale e recuperare il range di movimento sulla spalla rinforzando i trapezzi con questo tipo di movimenti non ce la farete mai quindi lo stretching live è usato come un acceleratore di prestazioni ovvero lo stretching crea i presupposti quindi libera le tensioni passive, le inibizioni in modo che se poi voi aggiungete, integrate con del lavoro per la muscolatura della parte posteriore fate meno fatica però dovete ritagliarvi del tempo per poter arrivare lì se no è come dire io mi metto schiena al muro oppure faccio le chiusure alla spaliera con una gamba alla volta e in questo modo spero di arrivare la saggitale si, campo a cavallo quell'erba cresce ok? non mi ricordo neanche se è così quindi all'interno di questo contesto salta fuori la domanda come vi dicevo di conviene fare esercizi unilaterali o bilaterali allora, quando io ho un deficit non si tratta di scegliere cosa fare ma si tratta in che ordine metterli nel senso che attenzione, ci possono essere due situazioni io ho una differenza tra la parte destra e la parte sinistra a livello di escursione di movimento range di movimento e lavorando unilateralmente vedo che riesco a pareggiare il range destra-sinistra a quel punto cosa faccio? vado a fare una posa bilaterale nel momento in cui io invece vedo che la parte destra e la parte sinistra non arrivano allo stesso livello la parte sinistra farà un mantenimento se per esempio è quella che è messa bene farà un mantenimento e rimane lì quella destra deve arrivare con il tempo almeno al range di movimento della sinistra solo in cui io terminate le serie previste per la parte destra e la parte sinistra le ho completamente pareggiate allora andrò ad inserire dei movimenti che sono bilaterali ma fino a quel momento la maggior parte del lavoro che dovete fare o meglio tutto il lavoro che dovete fare a livello di allungamento per il recupero del range di movimento dovrebbe essere unilaterale poi nel lungo periodo quello che consiglio io quando non ci sono più differenze destra-sinistra è quello di usare l'unilaterale o nei giorni leggeri o usarlo come esercizio di attivazione come primo esercizio di stretching che fate per poi lavorare principalmente a livello bilaterale vi faccio un esempio se io volessi prendere e migliorare il ponte o comunque l'estensione toracica la prima cosa che potrei fare per esempio è appoggiarmi al muro e cercare di aprire il petto primo esercizio che faccio è sempre fatto un braccio alla volta perché magari io so che tendenzialmente ho un lato che è un po' più rigido da lì in poi la maggior parte del lavoro dovrebbe essere fatto magari bilateralmente su una posa che sia estremamente specifica più simile al ponte perché? perché fin tanto che voi lavorate unilateralmente ci sono dei compensi perché se immaginate in questa posizione qua c'è solo una scapola che ruota e quindi la colonna si riadatta perfettamente l'altro lato non rompe le scatole a voi vi sembra di avere tutto il range di movimento del mondo dopodiché lavorate due braccia e casca l'asino questo significa che fin tanto che voi lavorate in un sistema che non è vincolato quindi la destra non vincono la sinistra tutto sembra perfetto tutto sembra figo improvvisamente quando poi mettete l'altro braccio saltano fuori dei limiti che neanche pensavate di avere perché? perché l'escursione di movimento che voi potete dimostrare in questo movimento un braccio alla volta è diversa rispetto a quello che voi potete fare con due braccia semplicemente perché c'è la parte destra che crea un vincolo per la sinistra la sinistra che crea un vincolo per la destra nel caso specifico entrambe le scapole ruotano c'è un'elevazione in entrambi i casi delle scapole e via dicendo quindi si tratta un pochino come avete capito non tanto di capire se devo fare una o devo fare l'altra ma al contrario di capire quando devo fare una quando posso integrarle e quando invece posso shiftare al 90% il lavoro solamente su una cioè ad ogni situazione e ad ogni momento storico volo dei pacchetti di fazzoletti sussiste sempre la risposta corretta tutto qui niente di più e niente di meno ciao ragazzi e ci vediamo noi al prossimo video e ci vediamo noi al prossimo video